Un miliardo per il rilancio dell'arsenale. Lo ha promesso il ministro della difesa Guido Crosetto, intervenuto martedì scorso all'inaugurazione del Polo Nazionale della Subacquea insieme all'altro ministro Sebastiano Musumeci, responsabile della produzione civile e delle politiche del mare. È la seconda volta, nel giro di alcuni mesi, che Crosetto annuncia il rilancio dell'arsenale. Lo aveva fatto nel giugno scorso all'inaugurazione di C-Future, la Convention sulle tecnologie marine. La notizia era stata accolta con comprensibile entusiasmo, innanzitutto perché esprime la volontà politica del governo di dare un futuro allo stabilimento militare che sopravvive da anni al suo declino. E poi per la caratura delle due realtà, che forse saranno chiamate, stando all'annuncio di Crosetto, a innervare di progetti e di lavorazione in vecchio arsenale. Fincantieri è un'azienda a dimensione globale che ha commesse per 34 miliardi e lavoro fino al 2030. RINA è una delle principali società di classificazione navale del mondo, che opera anche nel settore dell'energia, dei trasporti, oltre che dello shipping. Il passato e i precedenti dell'arsenale sull'arsenale, però, consigliano prudenza e invitano a moderare gli entusiasmi. In tutti questi anni, infatti, abbiamo ascoltato ministri, sottosegretari, ammiragli, affermare l'insostituibile ruolo strategico dell'arsenale militare e promettere solenemente programmi di rilancio e di investimenti nella base navale. Anche i sindacati, dopo gli annunci di Crosetto, non si sbilanciano più di tanto, memori delle aspettative puntualmente disattese. Hanno detto, chiaro e tondo, di non avere più molta fiducia nella politica fatta di annunci e di cerimonie e di aspettare fatti concreti, a cominciare dall'impiego consistente di lavoro e di lavoro di qualità. E poi guardano con un po' di apprensione all'ingresso dei privati nello stabilimento. Il grande vuoto, per ora, resta quello del piano industriale che non c'è. Solo quando sarà presentato sarà possibile valutare il programmi di ammodernamento e di rilancio industriale dell'arsenale nel sistema difesa del Paese. Per adesso c'è solo la promessa di un miliardo di investimenti, ma Moreno Veschi, politico spezzino di lungo corso che milita nel centro-sinistra, ricorda, e lo ha scritto sui social, che prima del 2010, quando era consigliere regionale, aveva partecipato a un incontro in provincia con l'allora sottosegretario alla difesa, Guido Crosetto. Si parlava di arsenale e Crosetto, anche in quella circostanza, ne aveva promesso il rilancio con un miliardo.